e a me come è venuta l'idea di una macchina per volare guardando un caffettiere o piuttosto era il caffettiere che guardava me perché gli dovevo una cinquantina di lire e io pensavo a momenti uscirò ma egli è capace di venirmi appresso e farmi anche uno scenato sulla strada ma se io avessi una macchina per volare pensa e ripensa egli non ebbe le cinquanta lire ma io scopersi questa macchina portentosa che è tutto il contrario di quello che disse archimede toglietemi un punto d'appoggio e io mi sollevo dal mondo è un meccanismo così semplice che pare quasi una burletta ecco di che si compone di una navicella di un motore a gas di due ingranaggi a scambio simultaneo di una trasmissione di una poleggia di due grandi eliche di tela con un movimento centrifugo e infine di un manubrio con lo stantuffo ad aria compressa e funziona così il motore naturalmente ecco allora per via degli ingranaggi le ruote della trasmissione subito si in modo che la puleggia naturalmente così che l'elica di destra e l'elica di sinistra in modo che basta afferrare il manubrio e allora immediatamente lo stantuffo e questa è la macchina per volare ora mi direte va bene abbiamo capito perfettamente ma a che cosa serve una attraverso il manubrio quindi deve schercare per cometare il manubrio e allora è un don dipuntro, illa fille ultima di un